Spaghetti con succo di pomodorini freschi. Il sugo più buono che esiste. Iniziamo! Mettete olio e uno spiccio d'aglio. E mettete sul fuoco. Lo facciamo soffriggere un pochino e poi aggiungiamo i pomodorini. Un pochino di sale e facciamo cuocere a fiamma alta per 5 minuti. Poi iniziamo a schiacciare i pomodorini. Così li sfardiamo. Aggiungiamo il basilico e continuiamo a farli cuocere per 20 minuti a fiamma bassa. Se il sugo si asciuga troppo ci mettiamo un po' d'acqua. Quando è pronto togliete l'aglio e potete decidere se lasciarlo così o frullare il sugo. E poi ci mettiamo la pasta. Ed ecco i miei spaghetti al sugo! Davvero lunghi? E' anche buoni. Oh, forse questo la potrò mangiare. Io ti potrò 10. E' troppo buona. Ciao e alla prossima! Vediamo. Assaggiamo, vediamo com'è. Questa pasta che ha fatto Miki. Davvero buona! Non sto scherzando! E' davvero buona! Mi piace davvero tanto! Mi piace davvero tanto! E' davvero buona! E' davvero buona! E' davvero buona! E' davvero buona!